Quarta corsa dal Savio è il sottoclou della serata riservato a cavalli di quattro anni. Distanza del Miglio in sette al Via, uno capoclasse Italia, due Camelot Grif, tre Curdeffe, quattro Commodoro Ors, cinque Chelsea dei Greppi, sei Camilla Bass, in seconda linea, sette Codigal. Favori netti per capoclasse Italia. Numero uno Andrea Farolfi in sediolo, alternativa principale è Chelsea dei Greppi, numero cinque. In partenza c'è lo scatto proprio di Chelsea dei Greppi che va a condurre mentre ha sbagliato Commodoro Ors. Chelsea dei Greppi in vantaggio su capoclasse Italia. Vedremo ora Chelsea dei Greppi che comunque va via sul ritmo 14.5-200 ma sposta subito capoclasse Italia e ottiene strada. il favorito dunque capoclasse Italia passa a condurre in meno di 400 metri su Chelsea dei Greppi, 29 secco comunque il quarto d'approccio per il battistrada. Capoclasse Italia che precede Chelsea dei Greppi mentre più indietro segue il gruppetto cappeggiato da Cordef in terza posizione e poi a seguire tutti gli altri con quarto alla corda Codigal. Mentre percorsi esterni cerca di muoversi Camelot Griff seguito da Camilla Bass fuoricorsa a Commodore Ors che aveva sbagliato al via. Intanto 58.9 per i primi 800 metri di gara, cavalli che si avvicinano al chilometro. Capoclasse Italia in vantaggio nei confronti di Chelsea dei Greppi, terza posizione per Cordef. Nessuno all'esterno riesce a farsi luce, 1.14 il raguaglio al chilometro, siamo a 500 dalla conclusione con capoclasse Italia, sempre leader all'esterno con coraggio. Camelot Griff si avvicina, copre completamente Chelsea dei Greppi e tenta di avvicinare anche capoclasse Italia ma si getta di galoppo a 300 dall'arrivo. E così Chelsea dei Greppi in seconda posizione, segue direttamente capoclasse Italia, l'ingresso addirittura d'arrivo. Ultimi 180 metri per capoclasse Italia, Chelsea dei Greppi prova l'open stress, capoclasse Italia si difende bene. Nel finale Chelsea guadagna qualcosa ma capoclasse vince ancora molto molto bene, mentre per il testo Cordef precede Codigal. 1.57.9, 1.13.3, raguaglio conclusivo, 29.6 a chiudere dopo un 29.4 di penultimo quarto, significa 59 netto a chiudere la vittoria per il favorito capoclasse Italia, Andrea Farolfi. Il training di Mauro Baroncini per la scuderia Viva Giovane Italia. Secondo posto per Chelsea dei Greppi, al terzo Cordef. Il training di Mauro Baroncini per la scuderia Viva Giovane Italia.